La magia del circo e il grito torna a Ponte Buriano. Da giovedì 2 fino a sabato 11 giugno, sulle rive dell'Erno torneranno le acrobazie e le danze aeree, ma anche la musica e i racconti, in un luogo non convenzionale avvolto di incanto e poesia. Offriamo sei compagnie diverse e ogni giorno ci sarà spettacolo, ci sono anche due repliche al giorno, sia di danza per tutti, per le famiglie e di circo contemporaneo e la danza conterrà anche la magia, il gioco, sono spettacoli che vanno per tutto il pubblico, proprio per le famiglie, faremo anche dei laboratori per i bambini, in giro troverete i nostri programmi, in giro per Arezzo dove potrete consultarli e vedere gli orari e le offerte. Tra l'altro il luogo è meraviglioso, se non lo conoscete è un'occasione per venire a Ponte Aburiano e vedere anche proprio il ponte che è indietro la gioconda di Leonardo da Vinci e anche l'occasione magari per fare un picnic e una giornata all'aria aperta. Tutto pronto dunque per il ritorno del circo dopo una passata edizione di grandi successi e sold out. Il primo evento di una lunghissima estate a Retina, si inizia a Ponte Buriano con spettacoli dedicati anche all'infanzia, ma non solo, questo vorrei fosse chiaro, poi man mano sveleremo gli altri programmi, alcuni so che sono già usciti di questa lunga estate che credo sarà una delle più ricche da un punto di vista di offerta culturale che Arezzo abbia avuto negli ultimi anni.